Io sono Roberto Orlandes, sono Couture Manager di Università Italia, quindi la filiale della notizia nazionale olandese che sviluppa prodotti di supporto per display e videocollezioni. Noi abbiamo parecchie novità quest'anno, comunque una delle novità è il sistema di supporto per display da pavimento, emanazione della Linea Connected di Vogels, un sistema modulare che consente quindi di creare la soluzione ad hoc richiesta. Questo è un sistema che consente quindi di montare display single o anche multi display e creare anche delle video. Il prodotto consiste in una base, l'abbiamo creata molto liscia, molto piana per non creare ingombro all'utente che si avvicina. Abbiamo fatto un palo in alluminio che ha molto molto ben definito con i canali per nascondere i cavi dall'interno. C'è poi un'interfaccia, un'interfaccia medulare che quindi consente in base alle caratteristiche di montaggio del televisore di scegliere quale interfaccia installare. Noi abbiamo avuto una ottima partecipazione, molti sono venuti a trovarci, nello specifico devo dire, commentare soprattutto le presenze italiane quest'anno ci hanno soddisfatto, sono state presenze qualificate e molti di loro erano installatori che già conoscevamo ma ce ne sono stati anche molti altri che invece ci contattavano per la prima volta. Quindi credo che da un lato sia servita per rafforzare delle relazioni e dall'altro per aprire il mondo.